Signori, va ben ritornati nella carriera con la Juventus su Football Manager 2024 Allora, siamo ancora rimasti dal mercato, lo scorso episodio abbiamo fatto gli amichevoli Allora, chi voglio comprare? Allora, sappiate che a me mi servono dei terzini di riserva E ho pensato a un nome particolare, lo prendo dalla Serie B Ovvero, Giacomo Quagliata Perché prendo Giacomo Quagliata della Cremonese? Diciamo per tradizione, dovete sapere che la Juve Che molte leggende della Juve sono nate in Sicilia Pensiamo a nomi come, che ne so, Furino Che era di Palermo, Anastasi di Catania Se voi mettiamo anche Schillaci, che ci ha patto un po' Però c'è In realtà Quagliata può farmi anche l'esterno Quindi dai, uomo tutto fare, che potremmo scambiarlo? Non abbiamo soldi, devo vendere qualcuno Però per adesso, come Siciliano della Juventus in seconda squadra Abbiamo un giocatore Mi ricordo di avere un giocatore Ecco qua, Cosimo Marco D'Agraca E mo' all'u... no, dai Mi chiamiamo Cosimo Marco Che sì, il suo vero nome è... E... sì, vabbò Direi di vendere altri giocatori Potremmo venderli, i giocatori E non lo so Che altro c'è che potremmo... Ecco, effettivamente Facciamo un po' di cose Ok, potrei sostituire Allora C'è UEA Che mi può fare Mi può fare anche il terzino in realtà UEA Eh, devo fare... Aspettiamo qualche cessione Signori, il Wolfsburg vuole per ID Potrei vendertelo per quasi Forse 8 milioni No, vogliono... Accettano solamente 6 Ok, quindi accettiamo l'offerta Di 6 milioni per IN Quasi quasi Ok, sì Mi sa che lo sostituisco Al suo posto Con che ne so Faccio salire qualcuno Dalla primavera Oppure potrei... Oppure potrei... Perché vi ricordo Che forse c'era... Quanti giocatori ho in prestito Mio Dio Ne potrei richiamare un paio Aspetta, ma non avevo un po'... Avevo qualcuno in prestito Tipo... Tattiche C'avevo... C'avevo... Che c'è... C'avevo coso? Sto... Motta Che è alla Reggiana C'ho Motta dalla Reggiana Però potrei... Ma l'hanno aggiunto Camarda? Per... Per chiedermi Camarda L'hanno aggiunto Camarda Incribilmente non l'hanno aggiunto Aspetta, però abbiamo 7 e 3 Possiamo finalmente fare la cosa di guaiata Aspetta, quindi Andiamo a trattare Per Giacomino guaiata Diamo gli sto giovane del vivaio Più... Diamo gli cinque leoni Più il giovane del vivaio La Cremonese non vuole vendere sto giocatore Ragazzi Ok, va bene Non vuoi la Juventus guaiata Goditi la Serie B Vabbò, in realtà C'hanno detto che era molto interessato al trasferimento E cacchio Però ci chiedevano più soldi Vabbò, aspetta un'accessione Forse potrei... Potrei prendere un nuovo portiere Non lo so Scesdi Non lo so... No, non c'è dello Scesdi Solamente perché ha subito una... Cioè, dovete capire che è Haaland Allora Diamo... Alla 36 Ok Però mi potrei prendere un centrocampista di riserva Che... Non so se può... Vediamo Soriano Che è svincolato E come centrocampista di riserva Al posto... Io lo forferirei a Nicolussi Caviglia Secondo me Soriano... Dai, prendiamoci Soriano Chiede anche poco Riserva due anni Ok, va bene Sarebbe un ottimo rimpiazzamento per Nicolussi Caviglia E quasi quasi Mi prendo anche... Ci prendiamo De Gea come secondo portiere È ancora svincolato David Non ha trovato score all'astro mille Cacchio E allora come portiere Ma visto che... Visto che sto parlando di siciliani Ma un bel... Ma Francesco Borriel è però in prestito Cacchio Vabbò Noi ci prendiamo Soriano E... Che sto di Akite che è appena passato dal... Ok Quindi abbiamo ingaggiato Roberto Soriano Il suo numero ferito la 21 Che però è di fagioli Che vabbò è squalificato Quindi vabbò Chi se ne... Vabbò ti do la 44 Ecco qua Soriano Contento? Vabbò Allora fuori Hans Nicolussi Caviglia E dentro Soriano Non so se mandare in prestito però Hans C'ho un posto Mi rimane... Mi serve un portiere di serba però Vabbò metto una... Anzi metto faccio una cosa Ecco qua Con Nicolussi Caviglia che lo cediamo Alexander in un modo o nell'altro Nessuno lo vuole Ma che... Ma che è? Ma boh Signori Stiamo per fare il nostro debutto in campionato Questa sarà la formazione titolare Speriamo di fare un'ottima figura Ma è contro il Salento Cioè non dovremmo essere così tanto... Non dovremmo essere così tanto spaventati Allora... Allora... E' passato in vantaggio il Lecce Ma... Ma... Dio... Pipita Vi prego Speriamo di rimontarla almeno Attenzione Bah Cambiaso Rabiò Cambiaso Uisen Nu Ma che succede a sta squadra? Uh Che succede? Bah Falcone piccoli Eh vabbò non... Non sono felice da come voi state giocando Non sono affatto contento Noi dobbiamo giocare bene Grande Grimaldo che ha vinto 4 duelli nel gioco aereo Abbiamo anche più possesso palla Cioè leggermente Cioè poi abbiamo avuto... Cioè in sé... Abbiamo tirato 6 volte e nemmeno uno è andato in porta Ora 7 Cioè ma... Ma pensa... Ma pensa te Pensa te fare tutti questi tiri in porta E non riuscire a farne nessuno... Cioè... Veramente Che esordio da incubo In campionato Allora Eh mi sa che è ufficiale Abbiamo perso contro il Lecce all'esordio in campionato Se ci pensate anche del Neri Perde la prima di campionato 1-0 contro la squadra pugliese A segnare uno che non è nato... Che non è nato... Cioè... Mi merito l'esonero dopo questo disastro Intanto la Roma ha appena battuto 4-0 il Milan Ed è molto realistico signori Allora a me... Io voglio puntare su Quagliata Io punto su... Non capito quanto io voglio... Eh mo vogliono anche Nicolussi Capiglia Ed è anche calato il suo budget E se ho riuscito a strapparlo Per 6 milioni Quindi Quagliata Unisciti alla Juventus E continua la tradizione siciliana Che va avanti da molto tempo Facciamo turnover Con 4 anni di contratto E signori abbiamo appena firmato Giacomo Quagliata Palermitano E quindi si... Cambiato sono Nonostante abbia perso 1-0 contro il Lecce E' stato candidato per... Ok Il mondo ha senso Ok E quindi ingaggiamo Giacomo Quagliata Ovviamente un gran... Prendere anche la 13 Cioè beh bellissimo Mi serve però un portiere di riserva E se... Anzi Puntiamo su un... Puntiamo su un... Desplancho Si chiamava... Si chiamava così Desplancho Desplancho Ecco qua Posso cambi... Cioè solo comienza che posso cambiare Ups... E no... Non ha... Non ha... No... Desplancho era un... Giamontino di natura Quindi c'è... Quindi c'è... Cioè... Attenzione Milan Poi... 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 Letteralmente... Le... Le famose parole di Tyrrest Raptor Del mandare... Del mandare un fax con le cappette Ok... Ok... Intanto... Eh... Giochiamo contro il Genua La formazione di titolare Rimane la stessa Ah... Vi sono scordato di mettere qua Iata Al posto di... Potremmo metterlo? Io ci voglio puntare su... Mi sa che UEA Lo dovremmo cedere Facciamoci... Facciamo cassa Dalla sua... Da una cessione di UEA Adesso si capisci Che poi ha 23 Dai... Andiamo alla parte contro il Genua Dai Andiamo a vedere Perché mi ha messo Rabiot Capi... Ah... Mi sa che Rabiot nella vita reale Capi... Non mi sono perso Intanto... Non conosco... Vabbò Devo facciare contro i... Genovesi Rabiot Grimaldo Allora Bremer Uisen Nusa Scatta sulla fascia Blauic Cosa ti sei mangiato? Ok Attenzione Cambiaso Certo che però Noi giochiamo Dim Ma tutte le occasioni Non ce le mangiamo Tutte sto proprio Grande Nusa Primo gol Della stagione Per il norvegese Che quindi ci porta in vantaggio Contro il Genua Su calcio d'angolo Colpo di testa Grimaldo Calcio di punizione Uffa Non è entrato Non è entrato Attenzione E' stato E' stato Malinovsky Strotman Attenzione Gudmundson Che però viene colto In fuori gioco Ragazzi Non stiamo Allora Direi di dare L'esordio A un paio di giocatori Ad esempio Andiamo L'esordio A D'Agraca Andiamo Andiamo Anche L'esordio A Soriano Andiamo L'esordio Anche A Quagliata Anche A Costic Mi fai La testa Mi fai La fascia Destra Costic Ok Il mio Che batte 1-0 Il Frosinone E l'ex Sule Tra l'altro Mamma mio dio Quanto Quanto Era rivoluzionata La squadra Quando torneranno Tutte i loro prestiti Soriano Chiesa Ok Gudmundson Matt Ho preso Gol Da Matturro Stiamo giocando male Però Sarebbe un gol Un gol Incredibile Comunque Quello di Matturro Abbiamo avuto 10 tiri 5 in porta Ma veramente Stiamo facendo Così Smerd Cioè Poi sono squadre piccole Genova Lecce Stiamo Cioè Veramente Vi immaginate Quando affronteremo Le grandi Cioè Attenzione Attenzione Eh ma poi Io sono Dobbiamo Dobbiamo migliorare In termini Di risultati Speriamo almeno Di fare una vittoria Contro il Cagliari Che veramente Cioè Se non Almeno Ragazzi Non sono L'unica squadra La squadra Che delude Che delude In questo campionato Perché abbiamo L'Inter Che letteralmente Ha fatto solo Tre punce Però io ne ho uno Ok Offerta Del No Rugani Facciamogli fare La riserva Rugani Rugani come riserva Potrebbe essere Buono Dai Intanto Filippo Terracciano Va Al Genua Per 25 Milioni Chiaro Che va Al Werder Brema Per 1 E 9 Oggi Terminante Devo prendere Un Devo prendere Un Voglio Un nuovo Difensore Potrei Potrei Cedere C'è Qualche Un altro C'è Qualcun altro Tipo Cosa che potrei Chiamare Dal Prestito Coni Devinter Ma quasi Quasi Prendiamoci Coni Devinter Dove Sei Coni Devinter Sposta In prima Squadra Ecco Qua La Tecnica Del Richiamare Tutti Dai Prestiti Sium Prendiamoci Coni Devinter Quasi Quasi Rugani Ti Mandiamo A Calci Nel Sedere Ok Ok Va bene Ho capito Ho capito Ok Quindi Terza partita Di sto episodio Giochiamo Contro Il Cagliari A Devinter Ecco La 41 Dai per favore Possiamo Avere Una Vittoria Cioè Abbiamo Affrontato Cioè Siamo riusciti a fare Un punto Con Con Genua E Lecce Cioè Indovinate Con quale scuola Abbiamo perso Tra queste due Intanto Bene Non voglio che Petania Letteralmente Mi Mi Vandia Distrugga Tutta la difesa Perché il Cagliari È più possesso palla Nusa Abbiamo sempre Un problema Di realizzazione Che veramente Io Io non ce la faccio Io Cioè Veramente Ve lo ripeto Me li magno Sti gol Ho Ho proprio Cioè Io Io In attacco Due cloni Di Darko Pancev Quando era All'Inter Ve lo ricordate Darko Pancev Mio dio Tra l'altro Io ho letto Un lunghissimo Post di gol Che parlava Di tipo Un sacco Di bidoni Della serie A Ma tipo Di ogni squadra Cioè Attenzione Qual è il problema Dovrei chiamare Dovrei Cambiare modulo Dovrei per caso Cambiare modulo Perché Non stanno Riuscendo a Cioè Noi abbiamo Sempre più Possesso Lo so Ho capito Ok Vi piace Vi piace Il gioco Di Allegri Abbiamo Subito Gol Da Zito Lumbo Piacere Lumbo Zito Piacere Ma veramente Io mi merito L'esonero Cioè Questa potrebbe essere Una delle serie Più corte del canale Ma Se mi ma Blaovic Non farti parare Ste cose Ui se ne rapi O va Un po' Facciamo veramente Vomitare Chiesa con un 5 Cioè Un 5 Abbiamo una partita Contro la Roma Speriamo che Speriamo che Almeno Contro una Speriamo che Almeno Contro una grande squadra Riusciamo A fare il risultato Signori Ma Io mi Ragazzi Sono error record Leogatelli Vieni qua Ti metto Come sostituto A centrocampo C'è Artu No c'è Quasi quasi Mi prendo Barre C'è No dai Quasi quasi Io Come nuovo sostituto Io Mi prendo Tutti Sono tutti giocatori In vendita Vabbè Mi tirò Seconda squadra Dove sei Asa Sposta in prima squadra Va Poi In prima squadra Il buon Asa Sì ok Io lo so Sto contando molto Su Le promesse Però C'è Ma 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 In pratica Voi mi state Chiedendo Un esonero Cioè Non fa più ridere Ora Ora Proprio Me lo chiedete Cioè Proprio Mi arriva L'esonero Cioè E signore Con una squadra Senza Senza Né chiesa Né Né Rabiot Affrontiamo La Roma Io Io la vedo Dura Io veramente La vedo male Sta cosa Cioè Ok Pellegrini Già Già Fallo in aria Bene Momenti morti Cristante Pellegrini Smalling Pellegrini Bonfa Bene Siamo riusciti a non concedere La prima azione Della Roma Ma almeno Nel frattempo Nel frattempo Ho anche segnato Ho anche segnato Con Vlaovic Bene Almeno quello Cioè Vi prego Mantenevo Il risultato Di 1 a 0 Sulla Roma Perché Sarebbe molto Effettivamente La Juventus Anche in real life Gioca male Contro le piccole Però poi fa I risultati No quello in realtà È più il Cel No Non il Chelsea Non lo so Ma dai siamo ancora Sono soddisfatto Per Per come sta squadra Stia riuscendo A giocare contro Comunque La Roma Che Cioè Io non ho nemmeno Voglio andare a vedere Cioè Una Bella squadra Cioè Perché Voglio andare a vedere Che ha acquistato La Juve Roma Acquistato Stomilenkovic Bonfanti Dov'è Lukaku Non c'è Lukaku Ma Che succede Forse sarà In for Lo so Che sta succedendo Ok Dai Momenti morti Dobbiamo rimanere Difensivi Dobbiamo rimanere Difensivi Cambiaso Stiamo Letteralmente Stiamo per vincere 2 a 0 Contro la Roma Dopo aver fatto Schifo Contro Contro squadre Che combattono Per la Lo ripeto Ragazzi La Juventus Nella vita reale Cioè Poi con doppietta Faccio entrare Un paio di sostituti Va là Ok Dai Facciamo entrare La Graca E faccio entrare Anche Bobby Soriano Qui se ne è cambiato Stanno giocando male A quanto pare Lo lascio così Lo lascio così Cesni capitano Mio dio Tanto Tanto Miretti Attenzione Di caffa Fallo Sud da Graca In area di rigore Mi sa di sì Rigore Per la Juventus Chi lo va a battere Il numero 11 Chi è Filippo Kostic E segna 3 a 0 Juventus C'è Che partita Signori Che partita Dopo però Alcuni risultati Assurda ragazzi Sta partita Oh sì Ma mi si rompono tutti Cioè Che succede Ora anche i giocatori In prestito Mi rompono Che si rompe A sto punto Si infortuna anche Il vice allenatore Cioè Vabbò Signori Vedete Do fiducia Dai Vedremo Se riusciremo A fare bene Stas stagione Anche se Risultati Perché abbiamo chiuso Questa prima puntata Dove l'abbiamo chiusa Al Quattordicesimo posto Almeno anche La Ro Almeno il Milan Si unisce A Perché c'è Perché Monza E Lazio A pari punti Con il Monza Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao